... Regionali due sondaggi ma dati simili, zaia in testa, stacca di poco la Moretti, ora si attende la presentazione delle liste. Altri gruppi venetisti pronti a presentarsi hanno protestato perché non invitati alla trasmissione di Vespa, spunta anche Massimo Emilio Gobbi con una lista San Marco. Grazie per la visione!